Dopodiché poi comunicateci se possiamo continuare la diretta oppure dobbiamo sgombrare lo studio. Allora, andiamo avanti ecco. Vabbè, tanto non ha senso, se volete far vedere c'è il monitor che sta... Credo che da casa avranno messo anche il tavolo. Ragazzi, se volete uscire, tranquillamente uscite. Noi rimaniamo qua e andiamo in onda.